Tragedia della vigilia di Natale San Vito al Tagliamento raggiunti 500 parti in un anno, il punto nascita non sarà sospeso e Angelo, nato il giorno di Natale, ad aver garantito la continuità del servizio per tutto il prossimo anno. Presentato a Pordenone, Mettiti nelle mie scarpe, l'opera esperienziale dell'Empathy Museum di Londra, riadattata e realizzata in Italia da Fondazione Empatia Milano per celebrare il trentennale di cooperativa Itaca. I titoli del telegiornale del Nord-Est ritrovati ai nostri gentili telespettatori in questo martedì 27 dicembre. Apriamo subito il telegiornale di oggi con una tragedia che è avvenuta nel pomeriggio sulla pista da sci a Piancavallo. Un uomo è caduto mentre stava scendendo la pista Tremol 2 con lo snowboard ed ha perso la vita a causa del trauma riportato con la caduta. Era stato attivato l'elicottero sanitario giunto da pieve di Cadore. Purtroppo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso dell'uomo nonostante la repentina attivazione della macchina dei soccorsi sanitari. Sempre a Piancavallo intorno alle 14 un minore di circa 13 anni è rimasto vittima di un infortunio sempre sulla pista Tremol 2. È stato attivato il soccorso piste. Il minore è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Pordenone con un'ambulanza. E quindi parliamo anche della tragedia della vigilia di Natale perché sono state fissate per venerdì i funerali dei due giovani di 25 anni morti nell'incidente in via della Libertà a Mestre. Sentiamo tutti i dettagli nel nostro servizio di apertura. Sarà il Duomo di Mestre venerdì mattina ad accogliere i fedeli che vorranno stringersi alle famiglie di Riccardo Pastrello e Tobia De Kerr. I giovani di 25 anni deceduti nel tragico incidente avvenuto all'alba della vigilia di Natale. Sono stati fissati infatti i funerali. Da sempre grandi amici erano all'interno della Renault Clio uscita di strada in via della Libertà. L'arteria che conduce Venezia a Mestre all'altezza di via Righi. Assieme a loro a bordo vi erano altri due giovani, una ragazza e un ragazzo, sopravvissuti allo schianto. Nonostante l'intervento del 118, per Riccardo e Tobia invece non c'è stato nulla da fare. Avevano studiato al liceo Franchetti ed entrambi avevano la passione per il basket, oltre allo stesso percorso universitario in Svizzera. Erano assieme anche venerdì sera per alcune ore in compagnia in un locale della zona fino al sinistro. Lo saranno anche venerdì quando tutta la comunità darà loro l'ultimo saluto nelle esequie convocate alle 10.30. 6 autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale accaduto ieri sera lungo l'autostrada A4 tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Due donne sono rimaste ferite, una è stata trasportata in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine. Sentiamo. Soccorso, un'ambulanza proveniente da Palmanova e un'altra proveniente da San Giorgio di Nogaro. Due le persone rimaste ferite, trattasi di due donne, una è stata trasportata con l'elicottero intubata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'altra donna è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale di La Tisana. In codice giallo le altre persone invece sono state controllate sul posto, attivate dagli infermieri della Sores, anche i vigili del fuoco per quanto di competenza i pompieri hanno operato in piena sinergia con le equip sanitarie. Operazioni coordinate dal COAL, Centro Operativo Autostradale di Udine, sul posto presenti anche i mezzi di autovie Venete. È stato un weekend di interventi nonostante le feste per i vigili del fuoco del comando di Pordenone tra incidenti e incendi. Sentiamo il bilancio nel prossimo servizio. È stato un fine settimana festivo impegnativo per i vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone, intervenuti tra la vigilia di Natale e Santo Stefano per diverse operazioni di soccorso. In particolare nel tardo pomeriggio di sabato 24 due auto si sono scontrate frontalmente lungo la Cimpello Sequals all'altezza dello svincolo per Murlis, località di Zoppola, causando tre feriti. Uno dei conducenti, finito nel fossato adiacente alla strada con la sua dacia, è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco giunti da Pordenone e da Spilimbergo. Al momento del sinistro le sue condizioni sono parse serie, tant'è che è stato richiesto l'intervento dell'elissocorso. Le altre due persone coinvolte, una donna e un ragazzo, hanno riportato ferite non gravi. Presenti per i rilievi di legge gli agenti della polizia stradale di Pordenone. La strada è stata chiusa nel senso di marcia interessato dal sinistro per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza. Sempre nella sera del 24 i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento con l'autoscala di Pordenone sono intervenuti ad Azzano Decimo per un incendio di canna fumaria. Il cammino di un'abitazione a due piani era stato coinvolto da un rogo di lieve entità e una volta giunti sul posto i pompieri hanno verificato che le fiamme non avessero intaccato il tetto in legno dell'abitazione. Fortunatamente non sono stati riscontrati danni a cose o persone. Anche ieri, giorno di Santo Stefano, poco dopo le 8, un'auto condotta da un'anziana di 80 anni di Pasiano di Pordenone mentre stava percorrendo via Panigai a Porcia in direzione Palse ha preso fuoco improvvisamente. La conducente è riuscita ad abbandonare subito il mezzo ed ha chiesto aiuto in una casa nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due automezzi ed hanno provveduto a spegnere l'incendio. Mentre i soccorritori portavano a termine le operazioni l'anziana ha accusato un malore ed è stata prontamente soccorsa dai pompieri che hanno richiesto alla sala operativa l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto presenti anche due pattuglie della Polizia di Stato. Rapina a mano armata commessa nel 2017 ai danni di un residente in strada del Friuli a Trieste. Individuati e condannati i due presunti autori. Edoardo Anese È stato condannato a 11 anni e 10 mesi di reclusione il quarantenne triestino ritenuto responsabile in concorso con un complice residente nel Goriziano di una rapina a mano armata commessa nel mese di settembre 2017 ad anno di un settantenne. Allora residente in strada del Friuli che nell'occasione era stato violentamente percosso e sotto la minaccia di due pistole rapinate o di alcuni monili in ore un orologio marca Rolex. Le indagini avviate nell'immediatezza e condotte interrottamente per un anno dal personale della quarta sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile con la direzione del sostituto procuratore della Repubblica dottoressa Maddalena Kergia hanno permesso di raccogliere importanti elementi a carico delle due persone ritenute responsabili della rapina nonché di diversi furti aggravati commessi in seguito. L'inizio delle investigazioni è stato contraddistinto da un'intensa attività di acquisizione e analisi di filmati registrati da numerose telecamere di videosorveglianza grazie alle quali il personale della squadra mobile ha individuato un veicolo sospetto sul quale erano stati in precedenza controllati dei soggetti con a carico dei pregiudizi di legge. La conseguente attività di acquisizione e accurata analisi dei tabulati telefonici relativi alle utenze in uso alle persone identificate a bordo dell'auto ha consentito di raccogliere degli elementi indiziari e di avviare il monitoraggio delle persone attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali dalle quali emersa la loro propensione per la commissione di reati contro il patrimonio le perquisizioni delegate all'autorità giudiziaria hanno in seguito consentito di rinvenire e sequestrare presso l'abitazione situata nel goriziano del Trentenne la confezione di una pistola del tipo scacciacani del tutto uguale a quella utilizzata per compiere la rapina a Trieste a cui gli investigatori erano risaliti grazie ad alcuni componenti dell'arma rinvenuti sul luogo della rapina la solidità del quadro probatorio raccolto nel corso delle investigazioni svolte ha consentito all'autorità giudiziaria di emettere prima un'ordinanza applicativa delle misure cautelare in carcere a carico di due indagati che è stata eseguita il 26 ottobre del 2018 e poi di rinviarli a giudizio il Trentenne goriziano che ha ammesso le sue responsabilità ed è stato condannato in via definitiva con rito abbreviato a 5 anni di reclusione mentre il secondo presunto autore dei reati accertati ha preferito affrontare il processo con rito ordinario al termine del quale è stato riconosciuto colpevole a San Vito Tagliamento sono stati raggiunti 500 parti in un anno all'ospedale della città il punto nascita quindi non sarà sospeso e Angelo nato il giorno di Natale ad aver garantito la continuità del servizio per tutto il prossimo anno sentiamo scongiurata la sospensione del punto nascita di San Vito al Tagliamento grazie al 500esimo neonato dall'inizio del 2022 si tratta di Angelo nato di 3,43 kg venuto alla luce proprio il giorno di Natale garantendo di fatto il funzionamento del reparto di ostetricia dell'ospedale di San Vito almeno per tutto il 2023 da settimane c'era infatti il timore di essere costretti a rinunciare seppur momentaneamente ad uno dei più importanti punti nascita del friule occidentale che pareva non riuscire a raggiungere il numero minimo di 500 parti in un anno come previsto dalla normativa il rischio della sospensione era infatti concreto i parti registrati a San Vito nel 2022 sarebbero stati 535 di cui due avvenuti a Spilimbergo sede staccata del presidio ospedaliero sanvitese tuttavia oltre 20 donne che si erano recate a partorire a San Vito sono risultate positive al tampone e quindi sono state trasferite all'ultimo momento a Pordenone dove hanno portato alla luce i loro nascituri ha fatto sapere il dottor Michele Minuzzo direttore del presidio ospedaliero di San Vito Spilimbergo ciò nonostante prevale un senso di ottimismo che vede, malgrado l'evidente e generalizzato calo demografico l'ostetricia di San Vito come un punto di riferimento per le future mamme dell'aria ma anche del vicino Veneto e del Codro Ipese grazie ad Angelo dunque il servizio di ostetricia sanvitese resiste anche se le problematiche legate alla carenza di personale non si cancellano si continuerà ad investire in questa struttura detto in una nota al dottor Minuzzo dove a breve è previsto il completamento delle 12 nuove stanze di degenza un risultato che unito al lavoro dei medici e delle ostetriche del reparto nonché al supporto dei numerosi ginecologi presenti nel territorio con i propri ambulatori e al prezioso lavoro delle parto di pediatria sta portando i suoi frutti per il sindaco Alberto Bernava c'è la convinzione che nel futuro il limite dei 500 parti sarà superato è ritornato a trovarci in studio Jacopo Chiaruttini consigliere comunale a San Vito con la lista Mosambito grazie per essere qui con noi questa sera grazie a voi commentiamo la notizia del punto nascita che insomma resiste anche quest'anno è sicuramente una buona notizia per il territorio secondo lei insomma questo ottimismo è giustificato? sì sicuramente è un'ottima notizia anche noi nel nostro piccolo giovedì scorso in consiglio comunale abbiamo depositato una mozione in tal senso che va nella direzione di preservare il punto nascita di San Vito Tagliamento e dei servizi collegati e chiaramente anche nell'ottica di preservare e tutelare l'ospedale civile di San Vito Tagliamento che è spesso sotto oggetto di discussioni, modifiche, normative e quant'altro insomma viene spesso messo in discussione, c'è un dibattito continuo ecco in questo senso e dal nostro punto di vista vogliamo che il punto nascita venga salvato e ci sia interesse da parte della regione e nello specifico della competenza dell'accessore alla sanità che tuteli questo servizio indispensabile alla nostra comunità certo e a proposito del consiglio comunale che si è tenuto a San Vito la scorsa settimana è stata approvata anche una mozione sulla viabilità di Gleris vuole spiegare di cosa si tratta? Sì, tra le varie interpellanze e mozioni che abbiamo depositato come gruppo consigliare c'è questa che riguarda il collegamento ciclopedonale dalla antica chiesa di Gleris alla frazione di Brede e Bottari e al resto della frazione di Gleris una richiesta che è stata portata avanti nel tempo da diversi consiglieri comunali, cittadini e che adesso auspichiamo trovi una soluzione anche attraverso questa mozione che abbiamo depositato che è stata approvata con delle modifiche non sostanziali che riguarda appunto il collegamento viario ciclopedonale la tutela dell'area, c'è un'area naturalistica ambientale nei pressi della chiesa antica di Gleris e quindi nell'ottica anche di valorizzare tutta quest'area e di creare un collegamento ciclopedonale sicuro dalla frazione di Gleris al resto del comune di San Vito Tagliamento è una cosa che va avanti da parecchio tempo e speriamo trovi la luce nel breve tempo possibile che l'amministrazione appunto si adotti con un progetto condiviso anche dalla comunità e dalla frazione di Gleris Ecco, a proposito insomma di dare spazio anche alle frazioni di San Vito Tagliamento secondo lei anche dal punto di vista insomma delle infrastrutture, della viabilità viene dato insomma al spazio sufficiente anche alle frazioni oltre insomma al centro cittadino? Allora, noi ci stiamo adoperando molto con, come dicevo, documenti, mozioni che vanno anche nell'ottica di rappresentare la cittadinanza e delle richieste che ci arrivano è chiaro che oltre a questa problematica ce ne sono altre come ad esempio la circonvallazione, l'utilizzo della circonvallazione e il dirottamento del traffico della Ponte Bana appunto sulla circonvallazione è un tema anche questo oggetto di discussione e auspico di condivisione con gli altri comuni con termini e unitamente a questo ci siamo permessi anche di intervenire sul tema della viabilità dell'ospedale che necessita assolutamente di una rivisitazione o di una modifica visto anche insomma la crescita del nostro nosocomio della tutela, della preservazione, del punto nascita di varie realtà, di vari servizi quindi in questo senso la viabilità va sicuramente rivista e va potenziata Diciamo che la viabilità dell'ospedale è già modificata dalla precedente amministrazione di Biceglie Sì, sulla quale abbiamo manifestato delle perplessità che peraltro sembra l'attuale amministrazione condivida quindi spero che si lavori assieme non come è stato fatto in precedenza quindi si riesca a lavorare in maniera diversa rispetto al passato Grazie allora Jacopo Chiaruttini per essere stato in nostra compagnia torni pure a trovarci quando vuole Grazie Patenti ritirate, incidenti e punti decurtati nelle strade del Trevigiano i giorni che hanno preceduto il Natale sono stati intensi di controlli da parte delle forze dell'ordine Il servizio Sono 29 le patenti ritirate per guida in stato di ebrezza nella sola marca trevigiana tra il 22 e il 23 dicembre L'esito dei controlli predisposti dalla Prefettura allo scopo di contrastare i comportamenti scorretti alla guida parlano del coinvolgimento di 79 pattuglie e 162 operatori su tutta la provincia I veicoli fermati sono stati 1079 per un totale di 1272 persone controllate Nel corso del servizio sono state rilevate altre 69 violazioni al codice della strada di cui 4 per guida pericolosa Nel complesso gli operatori delle forze di polizia incluse le polizie municipali hanno ritirato 36 patenti 4 carte di circolazione e denunciato 21 persone all'autorità giudiziaria I punti da decurtare sono stati 573 in totale Durante l'operazione sono stati rilevati 10 incidenti stradali di cui uno mortale quello accaduto a Castelfranco il totale dei sinistri finiti in tragedia dall'inizio dell'anno è quindi di 72 morti Siamo in compagnia di Mauro Capozzella consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia con il Movimento 5 Stelle Grazie per essere qui con noi questa sera Buonasera Tania, grazie Buonasera a tutti i telespettatori In vista delle elezioni regionali che ci aspettano nel 2023 si stanno definendo un po' le alleanze in particolare insomma il Partito Democratico ha riunito il centro-sinistra però insomma le parole verso Terzo Polo e il Movimento 5 Stelle sono state ben chiare insomma siete tecnicamente esclusi dall'alleanza lei che cosa ne pensa? Sì è vero Tania mi ero premurato di dire proprio da questi studi che con l'anno nuovo sarebbe iniziata anche una difficile e probabilmente dura campagna elettorale mi sbagliavo perché è già iniziata con l'anno vecchio e quindi ho sbagliato appunto di qualche giorno infatti si stanno già leggendo sui quotidiani locali appunto dei movimenti all'interno delle forze politiche oggi siamo protagonisti noi per voce di un sedicente candidato alla presidenza della regione del Partito Democratico e dice no con i 5 Stelle no la nostra alleanza naturale cioè l'alleanza naturale del Partito Democratico deve guardare necessariamente al Terzo Polo va benissimo nel senso che a noi dispiace essere chiamati in causa soprattutto per beghe che riguardano altri partiti e dentro quelle beghe non vorrei entrare il Movimento 5 Stelle ha sempre corso da solo perché non si erano appunto create le circostanze per creare delle alleanze è molto probabile che corra da solo anche per le prossime elezioni regionali però con la coscienza pulita che cosa intendo dire? noi abbiamo esposto quello che è una specie di decalogo cioè dei dieci punti imprescindibili sul nostro modo, il nostro sentire, il nostro vedere la regione Friuli Venezia Giulia fra 20 anni e quindi ci sono dei passaggi necessari che noi abbiamo messo nero su bianco e abbiamo detto chi condivide questi passaggi chi condivide la visione della nostra regione per i prossimi 20 anni e noi siamo ben lieti di farlo salire a bordo oppure noi salire con gli altri insomma creare una forza politica capace di portare, di realizzare questi punti non abbiamo parlato di candidati presidenti non abbiamo neanche parlato strettamente e direi anche in politichese di alleanze abbiamo messo davanti a tutto dei punti programmatici molto semplici, molto schematici sui quali confrontarsi quindi è un po' inutile a fine anno leggere di con questo sì, con quello no non è una cosa che ci riguarda e ne vogliamo farci coinvolgere da questioni che non abbiamo neanche capito bene se interessino i cittadini e dall'altra parte appunto da parte vostra insomma avete presentato questi 10 punti programmatici e avete avuto una risposta avete avuto un interesse da parte di altri movimenti politici nella possibilità insomma di creare un'alleanza assolutamente sì ci sono delle forze politiche ovviamente minoritarie che sono molto interessate ai nostri punti li guardano con grande interesse hanno riconosciuto il coraggio che ha avuto il Movimento 5 Stelle di gettare un po' il sasso nello stagno e con queste forze politiche con i loro interlocutori noi stiamo parlando quindi siamo stati anche chiari su un fatto questo è necessario dirlo noi non ci sediamo a un tavolo e lo abbiamo detto esplicitamente con forze politiche che guardano il Movimento 5 Stelle come fumo negli occhi e non possiamo sederci a quel tavolo dove per esempio ci sia anche il terzo pollo se i rispettivi elettorati ecco mettiamola così invece di sommarsi si elidono sarebbe trarre in inganno i cittadini sarebbe trarre in inganno gli elettori partiamo ovviamente dai punti programmatici però c'è un altro paletto da inserire inevitabilmente per onestà intellettuale è evidente che il terzo polo e il Movimento 5 Stelle in questa particolare fase storica non hanno veramente nulla da dividere e nulla in comune nel caso in cui coriate effettivamente da soli avete già individuato un possibile candidato presidente diciamo che parto da questo ragionamento correre da soli significa rivendicare con forza la propria identità le proprie scelte e la propria storia di conseguenza l'interprete l'interprete di tutto questo background politico e culturale dovrà essere una figura estremamente identitaria come la corsa solitaria diciamo che nel nostro bouquet questa figura identitaria le figure identitarie non mancano ma comunque una l'abbiamo molto ben individuata e sarà protagonista grazie allora Mauro Capozella per essere stato in nostra compagnia e faccio anche auguri di buona fine buon principio grazie Tania colgo anch'io l'occasione per augurare a tutti una buona fine anno e un 2023 sereno per quanto possibile grazie grazie a voi una turista di Firenze di 57 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio dai soccoritori della stazione di Sappada del soccorso alpino e speleologico e dall'elisoccorso regionale dopo essere caduto in acqua nel laghetto di pesca sportiva presso il rifugio presso un rifugio a Sappada quanto sembra l'uomo si è portato verso il lago ghiacciato per aiutare il proprio cane che vi era caduto e dopo averlo tirato fuori non riusciva più ad uscire a sua volta un passante lo ha aiutato ponendogli la propria cintura ma una volta fuori essendo rimasto in acqua per una decina di minuti il signore aveva un principio di ipotermia l'equipaggio sanitario dell'elisoccorso è atterrato poco lontano si è portato da lui coprendolo con una coperta termica e il medico di bordo lo ha visitato i soccorritori della stazione di Sappada arrivati sul posto contestualmente con la jeep lo hanno ricondotto alla sua auto finché potesse rientrare al proprio alloggio l'intervento è durato circa un'ora ci fermiamo un istante per un piccolo break pubblicitario ma poi torniamo qui con altre notizie e altri ospiti dal Friuli Occidentale non andate via per ritrovati ai nostri gentili telespettatori riprendiamo subito con il notiziario viabilità a Portogruaro passi in avanti verso la realizzazione del ring abbiamo fatto il punto con il sindaco Florio Favero sentiamo Florio Favero sindaco di Portogruaro sul fronte della viabilità sono gli ultimi giorni dell'anno però insomma in molti anche si chiedono il tema del ring e del miglioramento della stessa viabilità portogruarese a che punto siamo con i lavori? Oggi abbiamo adottato in giunta il piano generale del traffico questa variante che stabilisce finalmente che l'anello a senso unico è un anello migliorativo della viabilità generale da qui si parte in parallelo il progetto del ring vero e proprio che è stato incaricato dato l'incarico a un professionista di Milano lavorerà in parallelo e approveremo il progetto di fattibilità a breve visto questa variante Alput un passaggio importante perché tempo ne abbiamo pochissimo scadenza è sempre 31 luglio 2023 e in quella data dovremo dare l'appalto alle imprese Questo vuol dire che a Spanne per vedere insomma l'opera definitiva entro un anno e mezzo dovremo esserci? Dando l'incarico il 31 luglio o anche prima per il ring penso che la realizzazione è molto breve perché non facciamo opere edili facciamo un'inversione del flusso e quindi è un discorso di comunicazione di far sapere a tutta la comunità che il ring è una variante al percorso che facciamo di solito quindi dovremo portare a conoscenza di tutti di questo fatto però dal punto di vista della realizzazione ci servono pochi mesi Siamo in compagnia di Chiara Adagiao consigliera regionale in Friuli Venezia Giulia ma anche consigliera comunale a Porcia grazie per essere in nostra compagnia grazie a voi ben trovati appunto come consigliera comunale a Porcia il 22 dicembre avete è stato approvato il bilancio di previsione e quali sono state le vostre proposte? Beh innanzitutto abbiamo fatto una proposta che era concentrata su tre emendamenti su tre argomenti che ci sembravano molto calati su quella che è la situazione attuale il primo emendamento chiedeva che fosse istituito il doposcuola gratuito nel prossimo anno scolastico per tutti gli alunni di Porcia quindi per tutte le famiglie che iscrivono i figli a Porcia ci sembrava doveroso fare questa proporre questa iniziativa questa attività perché da una parte soffriamo le scuole di Porcia soffrono di un calo di iscrizioni dovuto al calo demografico ovviamente come in tanti altri posti ma anche alla dispersione di alcuni dei cittadini di Porcia che iscrivono i figli in scuole di altri comuni perché magari non trovano il tempo pieno a Porcia per cui l'idea di venire incontro ulteriormente alle famiglie offrendo gratuitamente questo servizio che oggi è a pagamento e in particolare nel plesso di Pals che è un plesso che è molto magro diciamo come bacino di utenza e che fino all'anno scorso aveva dopo scuolo gratuito invece quest'anno sarà a pagamento ecco questa ci sembrava un'idea molto opportuna considerando anche il periodo di crisi dei bilanci delle famiglie purtroppo ci è stato detto di no ci è stato detto di no perché le tariffe sono rimaste quelle dell'anno scorso però in realtà è che non c'è la volontà di pensare a qualche servizio in più per le scuole per renderle più attrattive e quindi purtroppo il dopo scuola sarà sarà a pagamento e non sarà per tutti quindi la seconda proposta era quella di risolvere alcuni dei problemi che ci sono di sicurezza legati anche al fatto che alcune zone della città diventano buie nel corso della notte oppure che lo sono perché manca l'illuminazione comprendiamo che comprendendo anzi che ci sono in questo momento costi energetici per l'illuminazione molto alti allora abbiamo proposto l'installazione di lampioni con il pannello fotovoltaico e quindi che si alimentano in maniera autonoma e consentono quindi di garantire la sicurezza e la visibilità senza gravare sulle casse del comune questa cosa ci è stato detto di no perché secondo l'amministrazione questi lampioni al di là del costo per installarli hanno poi dei costi di manutenzione che non si sa perché sono molto superiori a quelli di qualsiasi altro lampione ma a noi è sembrata una scusa e a non voler affrontare un problema il terzo emendamento era quello invece di proporre una iniziativa per i giovani di Porcia dei cantieri lavoro da svolgere nella prossima estate quindi un paio due tre settimane di lavoro in cui questi ragazzi possono cominciare a fare anche un piccolo servizio per la comunità facendo piccole manutenzioni pulizie quello che serve o seguire qualche cosa negli uffici comunali piuttosto che fare altre attività che sono ovviamente tutte da pensare a fronte di un piccolo contributo questo perché a noi sembra una educazione diciamo alla responsabilità nei confronti della propria città e della propria comunità cittadina ma anche nello stesso tempo un'educazione all'autonomia proprio perché questi ragazzi possono guadagnarsi una piccola cifra che seppur modesta è comunque un aiuto al bilancio familiare qui abbiamo avuto dobbiamo dirlo la soddisfazione di vedere accolta questa nostra idea seppur trasformata in un ordine del giorno perché ci sono dei problemi tecnici da mettere a punto per quanto riguarda diciamo la quantificazione della spesa e soprattutto la modalità con cui pagare questi ragazzi però insomma abbiamo avuto piacere che questa iniziativa proposta dalla civica porcia bene comune che è in coalizione con noi del partito democratico sia alla fine passata si volevo chiedere facendo un attimo anche un passo indietro sulla questione del calo demografico comunque è un problema come ha già detto anche lei comune insomma dei nostri territori e come può intervenire la politica in questo senso anche la politica locale per poter diciamo incentivare quindi le nascite guardi il comune di Porcia ha fatto ha licenziato il mese scorso il piano delle politiche familiari che aveva proprio come finalità questo l'idea di aiutare ulteriormente le famiglie noi l'abbiamo criticato perché l'abbiamo criticato non nel principio perché era un'attività che stava anche nel nostro programma quando ci siamo presentati nel 2019 ma avremmo immaginato che dopo insomma tre anni e mezzo di lavoro fatta salva poi ovviamente quella che è stata l'introduzione dovuta al covid però c'erano stati tutta una serie di tavoli di lavori a cui abbiamo partecipato anche a noi per gruppi quindi una sorta di progettazione partecipata ci venisse dato un documento corposo in cui era fatta un'analisi della situazione delle famiglie di Porcia molto specifica e invece ci è stato presentato un documentino in cui gli unici dati erano il numero delle nascite negli ultimi dieci anni e poi una serie di iniziative che insomma nella maggior parte sono iniziative che si fanno già e una delle quali insomma fra quelle nuove c'è l'istituzione di uno sportello famiglia che non è altro che un luogo dove qualcuno dovrebbe andarsi a informare rispetto ai servizi che ci sono per le famiglie una cosa importante sicuramente perché oggi è giusto anche potersi districare fra la giunga di contributi ma di certo forse non un intervento così sostanziale diciamo che quello che manca e che noi abbiamo rilevato anche nel bilancio di previsione c'è un'attenzione forte alle opere pubbliche che sappiamo essere importanti ma minore attenzione all'elaborazione di strategie di servizio alla popolazione perché noi è chiaro che è più facile pensare di costruire qualche cosa investiamo tantissime risorse ma il più difficile è invece cogliere i bisogni delle famiglie e andare a dare delle risposte cercando di creare maggiori legami di comunità e questa è la critica che abbiamo fatto un po' in generale a tutto il bilancio di previsione che è una costruzione fatta soprattutto per alimentare un po' quella che è la vanità del sindaco se così posso dire il quale cerca sempre di mettere in evidenza i propri pregi denigrando il lavoro di quelli che è stato fatto prima la sua famosa frase con cui chiude qualsiasi sua esternazione anche sui social che è chissà fa è una grave offesa nei confronti di chi l'ha preceduto che si è trovato a lavorare in situazioni difficili ovviamente noi abbiamo riconosciuto anche durante la discussione col bilancio la difficoltà di questi tre anni e mezzo dovuta al covid dovuta poi alla crisi alla guerra a quella che è oggi l'aumento dei costi a materia prima e dell'energia ma non è che i cinque anni precedenti in cui c'era l'amministrazione Gaierin siano stati così degli anni fiorenti perché sono cominciati con la grande crisi economica conseguente alla crisi finanziaria con lo stabilimento Electrolux che stava per essere chiuso con i patti di stabilità che bloccavano la spesa dei comuni e con i nostri con i cassetti comunali privi di progetti e privi di risorse e in quei cinque anni l'amministrazione Gaierin ha riempito quei cassetti di progetti e ha portato a casa 30 milioni di investimenti in anni molto difficili ecco ed è questo il motivo insomma questo atteggiamento di continua denigrazione oltre che insomma il vantarsi di alcune cose che non sono proprio tutte dovute all'abilità del sindaco ma al lavoro degli anni precedenti e alla mancanza di visioni strategiche di servizi rivolte alla comunità che il nostro voto al bilancio è stato contrario Bene Chiara l'opinione è di Chiara Dajau e grazie allora per essere stata in nostra compagnia questa sera e anche a lei faccio gli auguri di buona fine anno e buon inizio 2023 altrettanto a voi e tutti i telespettatori che sia un anno che ci porta quanto più desideriamo grazie scrive una lettera che affida ad un palloncino in cui chiede un camion dei vigili del fuoco e il babbo natale pompiere glielo consegna di persona nella vigilia di Natale si è realizzato così il sogno del piccolo Jonathan il cui desiderio da Como era arrivato fino a Pordenone sentiamo aveva affidato il suo desiderio per Natale ad un palloncino liberato da un paese in provincia di Como e grazie al babbo natale pompiere il desiderio si è tramutato in realtà è così che si è realizzato il sogno di Jonathan bimbo di tre anni di ricevere in regalo un camion dei pompieri lasciato sul lago di Como e affidato al vento il bigliettino è stato trovato in un campo nel Pordenonese e consegnato ai vigili del fuoco del comando di Pordenone dal 20 dicembre è quindi iniziato il viaggio del babbo natale pompiere che la vigilia di Natale ha consegnato di persona al piccolo Jonathan un'autoscala giocattolo con l'augurio di forse un giorno poter guidare un vero camion dei pompieri ridossando la divisa da vigili del fuoco un regalo speciale giunto a Como sull'autoscala messa a disposizione dall'associazione vigili del fuoco di Pordenone che ha sicuramente reso magico indimenticabile il Natale 2022 per Jonathan stamattina è stato donato un quadro all'amministrazione comunale di Pordenone l'assessore alla cultura Alberto Parigi lo ha ricevuto dalle mani del proprietario Claudio Fantin che con la famiglia si è recato in municipio per questo gradito regalo natalizio presente anche l'artista Giulio Belluz autore di questa imponente crocifissione datata 2019 un olio su tela delle dimensioni di 353 per 200 cm il particolare che lo rende così prezioso è la presenza di un angelo custode che l'artista ha voluto mettere per sostenere il corpo di Gesù durante la crocifissione elemento che normalmente non compare in rappresentazioni della crocifissione ma che fa della tela un'opera quanto mai umana e caritatevole l'amministrazione comunale ringrazia per questo dono che andrà ad abbellire la saletta dei consiglieri posta a fianco a quella consigliare sotto al quadro nei prossimi giorni arriverà apposta a una targhetta con i nomi dell'artista e del donatore del quadro nella serata del 16 dicembre durante le operazioni di controllo dei documenti personale della polizia di frontiera marittima ed aerea di Ronchi dei legionari ha tratto in arresto un cittadino afgano di 35 anni l'uomo era in procinto di salire su un volo diretto a Londra Stansted ha esibito un documento del Lussemburgo contraffatto agli agenti addetti ai controlli di frontiera il 35enne è stato quindi tratto in arresto ed associato alla casa circondariale di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria ancora in atto ulteriori accertamenti di polizia per stabilire l'origine del documento contraffatto arriva a Pordenone mettiti nelle mie scarpe in occasione del trentennale della cooperativa sociale Itaca un'iniziativa l'insegna dell'empatia il servizio presentata oggi a Pordenone mettiti nelle mie scarpe un'installazione esperienziale riadattata e realizzata in Italia da Fondazione Empatia Milano per celebrare il trentennale di cooperativa Itaca all'ex convento di San Francesco dal 28 al 30 dicembre sarà possibile ascoltare e vivere le storie degli altri indossando le loro scarpe un'occasione per tutti di mettersi nei panni di un'altra persona camminare realmente nelle sue scarpe provare le sue emozioni sogni speranze e sviluppare l'empatia come veicolo di conoscenze e di attività il Natale a Pordenone è fatto di tante cose non ci sono solo musica e casette c'è il servizio di babysitteraggio gli eventi per bambini in piazza risorgimento il Natale solidale che abbiamo fatto qualche settimana fa i presepi ci sembrava coerente aggiungere questa iniziativa di Itaca che festeggia i 30 anni perché? perché è un modo intelligente attraverso un format un evento per immedesimarsi veramente nelle altre persone io credo che la solidarietà si esprima in tante forme e credo anche che la prima solidarietà a cui dobbiamo andare incontro è quella dei nostri cari dei nostri vicini dei nostri parenti magari una mamma che sta male un fratello che ha bisogno di aiuto noi stiamo celebrando i 30 anni di Itaca abbiamo deciso di utilizzare un modo molto originale diverso appunto non autocelebrativo ma che fosse raccontare storie che quotidianamente Itaca nella sua attività incontra e il modo per raccontarlo è stato quello dell'empatia di mettere in raccordo le persone cittadini di Pordenone che vorranno fare questa esperienza con persone che hanno avuto delle difficoltà delle fatiche dei fallimenti dei riscatti entreranno le persone i cittadini entreranno nell'ex convento di San Francesco dove è allestito un negozio di scarpe però sono scarpe speciali sono scarpe delle persone che raccontano la propria storia quindi indosseranno una cuffia e ascolteranno in dieci minuti la storia di queste persone è un modo per entrare nella pelle nelle scarpe nei panni delle persone e capire che cosa è e che cosa noi quotidianamente facciamo è tutto per questa edizione del telegiornale grazie a tutti per averci seguiti appuntamento come sempre domani alle 19 con il telegiornale del nord-est buon proseguimento di serata ciao a tutti previsioni per i prossimi giorni mercoledì 28 dicembre cielo da poco nuvoloso variabile suduta la regione di giorno avremo ancora temperature miti per la stagione lo zero termico si abbasserà a 1500 metri vediamo le temperature le minime sulla pianura 2-5 gradi sulla costa 6-9 gradi circa le massime su pianura e costa saranno di circa 10-12 gradi temperature medie alla libera atmosfera a 2000 metri meno 3 gradi a 1000 metri più 2 giovedì 29 dicembre tempo in genere umido con cielo coperto e foschia sulle zone orientali e sulla costa avremo anche deboli piogge che nella zona di Trieste e sul Carso saranno più continue e un po' più consistenti sulla fascia alpina e verso il cadore possibile tempo migliore con qualche schiarita le temperature le minime sulla pianura circa 3-6 gradi sulla costa 6-9 gradi le massime su pianura e costa saranno di circa 8-11 gradi temperature medie alla libera atmosfera a 2000 metri meno 2 gradi a 1000 metri un grado grazie a domani grazie a tutti grazie a tutti